Giocheremo Mario Kart, un videogioco che ha venduto milioni, decine di milioni di pezzi in tutto il mondo, un gioco amatissimo anche dai Nintendari e abbiamo anche un folto pubblico qui davanti al quale cercheremo grazie al nostro Silvano e ringraziamo anche Enrico alla regia, cercheremo di rendervi partecipi di questo mini contest, abbiamo dei ricchi gadget in premio, offerti proprio da Nintendo che ringraziamo come sempre per averci reso possibile grazie a tutti gli altri nostri sponsor, la nostra presenza qui al Mantova Comics & Games. Vi ricordiamo come sta succedendo a questo player, mi ricordo il tuo nome, Alessio, che Mario Kart via wireless si può giocare anche se non si ha la cartuccia perché tramite la piccola rete wireless che in questo momento si sta creando qua sul palco, si può scaricare una porzione di gioco, proprio quella che serve per poter entrare nella stanza della partita e che Mario Kart si può giocare fino ad otto player contemporanei nel Nintendo DS. ok, siamo praticamente pronti, vediamo un po', siamo alla scelta dei personaggi si parte sto seguendo Alessio sul suo Nintendo DS Argento, prima versione, non è un Lite chi hai scelto tu? non posso sceglierlo ah, il Fantasmino, è vero, perché tu hai scaricato la porzione di gioco è terzo in questo momento Alessio ma si recupera, si recupera assolutamente tra l'altro abbiamo sul palco tra i migliori giocatori di Mario Kart abbiamo già avuto modo di premiare alcuni di loro anche ai nostri tornei ufficiali qualcuno con la stelletta c'era in giro per la mappa proprio quello dietro di te, il quarto sul Nintendo DS, vi ricordiamo, a differenza di tutte le altre piattaforme si ha a disposizione due monitor si hanno a disposizione due monitor sul primo c'è la gara vera e propria sul secondo c'è una super minimappa che vi assicuro è molto molto utile per poter monitorare in tempo reale quello che sta succedendo sulla pista la tecnica del drift è una tecnica che va assolutamente imparata a qualsiasi livello perché ci permette di affrontare le curve ad una velocità nettamente superiore e poi il bello di Mario Kart è anche quello di conoscere esattamente per ogni pista dove si passa dove si può tagliare il più possibile il circuito allora com'è la posizione? chi è arrivato primo? ecco qua la super partenza scusa se ti ho distratto Alessio ma the show must go on affronteremo quattro circuiti potete vedere sul nostro mega schermo come sta andando la partita questa è una mappa un po' gore dove bisogna stare attenti a prendere parti del circuito dove il proprio kart non riceve una riduzione di velocità la raccolta degli oggetti è anche fondamentale il Mario Kart anche se i puristi dicono che aumenta sì una parte di divertimento nel gioco però si aggiunge anche la componente fortuna perché ovviamente una serie di oggetti fortunati possono ribaltare completamente la situazione e intanto il nostro admin Namir mi ha appena comunicato che sta iniziando il torneo di Mario Kart ufficiale su piattaforma Wii quindi so che i ragazzi che sono sul palco sono iscritti ma non c'è problema metteremo i turni in modo che voi possiate finire questo mini contest sul nostro palco subito dopo mini contest di FIFA con la magica telecronaca del nostro Leo qui Alessio ti vedo sempre terzo sempre defilato nelle ultime posizioni no è che ero al telefono sono al telco la raga e vabbè ma qui ragazzi abbiamo il mostro da Roma viene ma capito qui qui Grazie a tutti. 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 Ricordiamo i vostri nomi, ragazzi, per la cronaca. Andrea, da Modena, poi Jacopo da Roma, Antonio da Prescia, Alessio anche da Modena. Grazie mille, ragazzi. Ci vediamo al prossimo mini contest. State qui con noi. Video Games Party, il divertimento continua.